Ma che stai a fa? Stai a parlare con una bella ragazza e gli presenti tuo padre? Ma che stai a impulciare? E' una ragazza australiana, parla inglese. Ma che cazzo ne sai? Vedete come si parla alla donna? C'ho linguaggio universale, linguaggio del cento uomini d'altri tempi. Gianluca, te c'hai problemi di comunicazione. Te sei figlio di sta generazione di internet che parlate da sti cazzo di cosi e poi mi spaventate davanti a una sorca vera. Ma papà, io ho studiato legge e sono abituato a fare delle ring, a parlare in pubblico. Ma non sto a parlare di quelle fregnacce che ti imparano a scuola. Io te sto a parlare a fronte agli uomini veri. Però forse esageri papà, io penso di sapere come ci si relaziona delle persone vere. Quando avevo 17 anni mi avevo mandato a fare militare perché pensavi che ne avessi bisogno e infatti poi lì... Ma vaffanculo Gianluca, state zitto, ma che ne sai di che tu padre ha fatto la guerra? Dai cazzo! Io lo so di chi era la colpa, di quella stronza di sua madre. Mortacci mia quando l'ho messa in città, ma quella sta sempre in ciavaia. Lei è quelle stronze delle amiche sue. Ma perché io devo stare a casa con quel fregnone del figlio suo?